Terziario Donna, le imprenditrici CovCommercio Pesaro Urbino. Cammina con noi! Insieme, la tua strada per fare impresa sarà più facile. Insieme, ci orienteremo meglio per vincere le sfide del mercato. Insieme, sceglieremo i corsi più utili per le nostre attività. Insieme, potremo contare sulle consulenze migliori. Insieme, ci confronteremo per crescere. Facciamo Rete. Il futuro è nelle nostre mani. Grazie a tutti.